Il progetto Maramore ha come obiettivo quello di rendere i nostri oceani più resilienti alla situazione ambientale attuale, dove problemi quali cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di CO2, la conseguente acidificazione e l'elevata presenza di microplastiche rendono i nostri oceani in situazioni molto critiche, così come le comunità che vivono gli oceani e i mari. Questo come lo vogliamo andare a fare? La soluzione che propone il team Maramore è quella di sfruttare leve come la consapevolezza di aziende e di persone, la conscientizzazione e il brand activism ambientale, oltre che una comunicazione molto diretta ma anche molto consapevole, quindi non andando a lavorare attraverso un semplice storytelling ma attraverso un forte story making. Questo lo facciamo attraverso il coinvolgimento di tutta quella che è la comunità del mare. Il nostro obiettivo è partire da un'area campione come quella delle regioni Marche, ma il progetto è assolutamente scalabile. Si intende coinvolgere aziende attraverso azioni di assessment dei loro impatti ambientali e proporre alle aziende appunto delle roadmap che permettano di attivare delle strategie di abbattimento delle emissioni ambientali e degli impatti in generale. Attraverso la nostra piattaforma, e questa è la cosa innovativa del nostro progetto, andremo a creare un reticolato sull'area di mare delle Marche e andando ad associare ad ogni ettaro di mare degli indicatori ambientali come il global warming potential, l'acidificazione e la presenza di microplastiche. Questa piattaforma che andremo a realizzare verrà denominata SETTE-SI. Il nostro team è molto interdisciplinare e ha dalla sua parte una forte esperienza precedente realizzata su un progetto simile che si chiama Save the Rain Forest. Con la nuova borraccia simbio sostieni il nostro progetto Save the Rain Forest per la salvaguardia della foresta amazzonica. Don adesso protegge mille metri quadri di foresta e supporta con noi la lotta delle comunità locali per la sua conservazione. riceverai l'attestato di salvaguardia a tuo nome, oltre alla nuova borraccia simbio con etichetta appiantumabile e certificazione di sostenibilità. Save the Rain Forest è un patto quotidiano, personale e radicale tra noi ed il nostro futuro.